Bene, ci siamo, mi date conferma di sentire e vedere, ragazzi non ho parole, pian pianino dovrebbero arrivare anche gli altri, nel frattempo diamo quei 4 o 5, diciamo 2 o 3 minuti per diamo il tempo agli altri di raggiungerci. Ok, abbiamo perso un po' di... nemmeno con le censure. Bene, abbiamo capito che l'immagine di Man Ray evidentemente allude un po' troppo, è proprio la postura del corpo che è strano, stranissimo, stranissimo, eppure è così. Bene, si sta riempiendo di nuovo la diretta. Grazie MDA, grazie davvero. Aspettiamo di arrivare a 50, dai ripartiamo. Nel frattempo, Davide, se ci sei, ti chiederei di lavorare su Facebook per rimandare tutti quanti di qua, su questo nuovo link. Davide, ci sei? Ci sei? Mandami un messaggio qui in chat e aiuta gli altri a tornare qui. Non ci mancherebbe. Allora, ragazzi, abbiamo capito che Man Ray e Google e YouTube non vanno assolutamente d'accordo, quindi non ci resta che andare avanti e sperando che quello che deve ancora venire, come fotografie, nonostante le pecette, nonostante le X che vanno a coprire, speriamo che, insomma, non ci guastino la festa ancora un'altra volta. Ci ha già fatto perdere tanto tempo questa situazione, purtroppo non potevo immaginare che anche in questo caso. Bene, allora, andiamo avanti, farò ricorso, cercherò di capire se riesco a far ripubblicare quel video. Bene, ripartiamo. Allora, siamo a 53, non siamo più quelli di prima, ma fa nulla. Andiamo avanti. Allora, dicevamo, l'erotismo. L'erotismo ha probabilmente queste caratteristiche che trovavamo nell'immagine di Man Ray e siamo in grado in realtà di riscontrarle in tante cose, anche della storia dell'arte. Quindi andiamo avanti e vediamo se questa teoria regge o meno. Allora, cominciamo. Rischio dell'insuccesso. L'erotismo prevede sempre la possibilità di ferirsi, di farsi male. Tutte le cose che sono erotiche in qualche modo lasciano aperta questa porta, questo spiraglio di probabilità. Lo sguardo che indugia, scusate, l'erotismo prevede la necessità del tempo, della pazienza, l'insistenza. Adesso lo vedremo anche andando a ficcare il naso in alcune opere d'arte del passato che sono state accostate all'ideale erotico. Ad esempio, ve ne anticipo uno, Apollo e Daphne, il mito di Apollo e Daphne. Quindi l'insistenza è una delle caratteristiche dell'erotismo. Il desiderio di conoscere vuol dire desiderio di conoscere a fondo, non di fermarsi alla superficie, ma di penetrare l'essenza delle cose. Poi c'è la curiosità, quindi l'erotismo presuppone una certa curiosità e anche una certa innocenza dello sguardo, non certo la malizia. L'attesa, e qui vi riporto alla memoria una pubblicità abbastanza nota, l'attesa del piacere è essa stessa il piacere. Quindi è vero, mai frase è stata più vera forse. Chiunque ha provato nella sua vita cosa vuol dire l'attesa di conoscere una persona, nel senso di prima, cioè di conoscerla oltre la superficie, sa che questa attesa è qualcosa di assolutamente sconvolgente, che ci resta dentro come un ricordo base proprio. Il desiderio di avvicinarsi, abbiamo detto quindi il desiderio di entrare in contatto, quindi non solo contemplazione a distanza, ma anche fisicità nel rapporto. La sfuggevolezza, quando possiedi pienamente una cosa è allora che l'erotismo finisce, perché diventa altro, e poi l'allusione, quindi non la chiarezza, ma il forse è così, forse no, e questo si ricollega al rischio dell'insuccesso. Queste sono un po' le caratteristiche dell'erotismo, e se ci pensate, la negazione di queste caratteristiche è quello che noi chiamiamo pornografia. La pornografia, che tra l'altro deriva da porne, che vuol dire prostituta in greco, quindi significa disegnare, grafè, quindi disegno, disegnare prostituta, cioè raffigurare la prostituzione. E la prostituzione, se ci pensate, è l'esatto opposto di tutto ciò. La prostituzione richiede lo scambio di qualcosa contro il denaro, e quindi in qualche modo è la cosa più semplice del mondo, basta avere denaro. In senso lato, quindi, la pornografia possiamo considerarla come il contrario dell'eroismo. Andiamo a vedere Apollo e Daphne, ve ne parlavo prima, no? Qui ve la faccio vedere sotto forma di statua di Gian Lorenzo Bernini, non so quanti di voi abbiano avuto la fortuna di vederla dal vivo, questa statua, alla Galleria Borghese a Roma, vi invito a farlo, se non l'avete ancora fatto, perché davvero poi queste sono cose che nella vita vanno scoperte. Tra l'altro nella stessa Galleria trovate Plutone e Proserpina o altre statue molto importanti, anche di Canova. Quindi vi dicevo, Apollo e Daphne, la storia com'è, per farvela breve, no? La storia è questa, che Apollo, il dio Apollo, prende in giro Cupido, Cupido, da cui cupidigia, desiderio, che Cupido è il dio latino, ma è il dio greco corrispondente, Eros, da cui erotismo, quindi già andiamo a vedere come giocando con le parole tutto torna. Quindi Cupido viene preso in giro da Apollo e decide di vendicarsi. Si vendica come? Attraverso due frecce. Scocca una freccia, la classica freccia di Cupido, di Eros, verso Apollo, che lo fa innamorare perdutamente di Daphne. Ma verso Daphne, che è una ninfa, scocca un'altra freccia, un'altra tipologia di freccia, una freccia che crea in lei una sorta di repulsione per Apollo. Quindi in questa mancata corrispondenza di desiderio, in questa contrapposizione si svolge poi la storia, la storia che ci racconta Ovidio nelle Metamorfosi. Allora che cosa accade? Che Daphne comincia a fuggire, a scappare da Apollo, che la insegue, perché la vuole, perché è accecato da tutte quelle caratteristiche che abbiamo detto di qui sopra. Quindi vedete la sfuggevolezza, anche il rischio, tra l'altro. Quindi Daphne che fa? Siccome è molto più lenta di Apollo, chiede al padre di trasformarla in qualcos'altro affinché Apollo non possa averla. E nel momento stesso in cui Apollo poggia la mano sul suo fianco per prenderla, per cingerla, Daphne comincia a trasformarsi in un albero di alloro. Questa è la storia delle Metamorfosi di Ovidio, ma vedete come ci sono tutte le caratteristiche dell'erotismo che abbiamo detto prima. E Bernini le rappresenta con una serie di attenzioni assolutamente straordinarie, come la veste di Daphne che viene a cadere nel momento in cui Apollo si avvicina, e lì per prenderla, ma i suoi piedi già si sono trasformati in radici. Dovresti andare a vedere davvero i particolari per godere appieno di quest'opera. Questa è una rappresentazione, se volete, classica, dell'erotismo, che tra l'altro è presente in tante statue di Bernini. Un'altra statua celebre di Bernini che ci parla di questi aspetti qui è legata invece a un episodio biblico. Anzi no, scusate, non biblico, a geografico, relativo alla vita di una santa, quindi di Santa Teresa d'Avila. Perché? Questo è quello che scrive Santa Teresa d'Avila riguardo la sua esperienza di estasi. Gli vedevo nelle mani un lungo dardo d'oro che sulla punta di ferro mi sembrava avere un po' di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore così profondamente che mi giungeva fino alle viscere e quando lo estraeva sembrava portarselo via, lasciandomi tutta infiammata di grande amore di Dio. Il dolore della ferita era così vivo che mi faceva emettere dei gemiti, ma era così grande la dolcezza che mi infondeva questo enorme dolore che non c'era da desiderarne la fine, nell'anima poteva appagarsi che in Dio. Non è un dolore fisico, ma spirituale, anche se il corpo non tralascia di parteciparvi un po', anzi molto. È un idilio così soave quello che si svolge tra l'anima e Dio che io supplico la divina bontà di farlo provare a chi pensasse che io mento. Di fronte a questo scritto in cui Santa Teresa d'Avila descrive il suo episodio di estasi, Bernini tira fuori questo capolavoro che potete ammirare. L'estasi di Santa Teresa con la raffigurazione di questo angelo che lo trafigge col dardo, che poi per qualcuno diventa tutto simbolico, tutto allusivo, vedete come torna anche il termine dell'allusione, ma soprattutto quello che ha colpito nei secoli gli esperti di storia dell'arte, ma non solo, è lo sguardo di Santa Teresa che è uno sguardo che in molti hanno paragonato, come tutto l'episodio dell'estasi, a un orgasmo. E siamo lì. Torna il fatto che c'è un profondo legame tra erotismo e religione. È un legame che non mi sto inventando io, che non è soltanto riscontrabile nell'opera di Bernini, ma in tante altre cose che fra un po' andremo a scomodare. Se vogliamo provare a fare una sintesi, l'erotismo è un desiderio di unità, è un desiderio di essere tutt'uno con l'altra persona, o con quella cosa verso la quale si esprime il desiderio erotico, che potrebbe anche non essere una persona se parliamo di altre passioni umane. questo desiderio di unità diventa una sorta di lotta, perché è pieno di ostacoli. E proprio nella compresenza di questi ostacoli sussiste poi l'equazione erotismo uguale unità. È una lotta, se volete, anche contro la disgregazione, contro la finitezza dell'essere umano, e quindi contro la morte. Ed è una lotta contro l'espansione e la solitudine. In qualche maniera è come voler riportare indietro il Big Bang, tornare a essere tutto uno. Quindi, sia a livello, se volete, spirituale, sia a livello psicologico, sia a livello fisico, l'unità può essere rappresentata come un valore. E in fondo, lo vedremo più avanti, l'erotismo rappresenta la forma più alta di conoscenza, che noi andiamo a scindere nelle parole cum nosco, quindi essere con, e quindi con noi, cum nosco vuol dire con noi, e di nuovo questo con ci ritira fuori l'idea del legame dell'unità. Ecco, oggi purtroppo l'erotismo, in realtà, non solo oggi, è un problema che si porta indietro da sempre, però una volta si faceva, era più semplice parlare di erotismo, non perché mancasse Google con la sua censura, per carità, però sicuramente gli antichi greci erano assolutamente consapevoli del valore dell'erotismo, tanto che per loro la parola amore, poi lo vedremo, aveva più accezioni, una di queste era proprio Eros. Oggi purtroppo vi dicevo è un po' schiacciato a due estremi. Da un lato c'è la censura, che deriva ovviamente da una visione di religiosità forse errata, sicuramente che non ci appartiene più in questi anni, o meglio, non dovrebbe appartenerci visti i passi avanti che ha fatto la Chiesa in tal senso, anche se non sono sempre noti. Però, ecco, sapete insomma che Bernini, no Bernini, scusate, Benigni, ha parlato all'ultimo festival di Sanremo, il Cantico dei Cantici, descritto come proprio un rapporto fisico, sessuale, tra due soggetti che rappresentano poi Dio e la Chiesa, e sapete che questo intervento di Benigni era ovviamente avallato da cardinali, cioè non era una cosa inventata da lui così, di sana pianta, l'interpretazione che dà ufficialmente la Chiesa del Cantico dei Cantici. Ma, quello che vi dicevo, da un lato c'è stata la censura e c'è tuttora, dall'altro c'è la pornografia, e in tutti e due i casi, mentre possiamo identificare l'erotismo con il bisogno, da un lato la censura rappresenta la negazione profonda di questo bisogno, dall'altro la pornografia ne diventa la banalizzazione attraverso la soddisfazione immediata, senza più medium. E vi dicevo, è possibile riscontrare, in ciò che lega il termine erotismo, almeno alla religione, alla filosofia, alla psicologia, è possibile riscontrare parecchie analogie. Pensiamo alla Genesi, quando Dio crea la donna, crea di fatto la sessualità, crea il desiderio dell'altro. Di nuovo, la creazione della donna, intesa come costola dell'uomo, ma intendiamo l'uomo come asessuato, come essere perfetto, asessuato, in qualche maniera ha lo stesso significato del mito delle due metà nel simposio di Platone, quindi delle due metà della mela che sono separate, passeranno tutta la vita a rincorrersi, a cercare di trovarsi. Ma stesso discorso, il cantico dei cantici, che diventa metafora dell'amore etnitario tra Dio e la Chiesa, oppure la trasfigurazione. Se voi pensate all'episodio della trasfigurazione di Gesù, trasfigurazione vuol dire conoscere profondamente l'intimità dell'altro. Ed è un episodio, anche quello sfuggevole, perché ci racconta il Vangelo che una volta terminata, terminata l'episodio della trasfigurazione, gli apostoli dicono restiamo qui, ma in realtà è finito tutto, è stata solo un'anticipazione di quello che verrà. Oppure l'estasi di Santa Teresa o l'intera storia della salvezza, che per molti biblisti, ed è praticamente l'interpretazione ufficiale, è proprio il rapporto, la storia d'amore tra Dio e l'uomo, ed è fatto di alti e bassi. Ma c'è anche una lunga tradizione di erotismo all'interno della filosofia, a partire da Socrate, per cui l'erotismo aveva continui rimandi al buono e al vero, questo molto prima che intervenisse la censura, o Platone, che usa il mito delle due metà nel simposio per narrarci appunto di cos'è questo desiderio, da dove nasce questo desiderio dell'altro, e in fondo quello che è molto interessante è anche questo che ho scritto dopo, secondo Platone l'atto fisico d'amore parte di una profanazione. E l'erotismo è superiore rispetto al piacere, perché? Perché vive e vede più in alto rispetto al semplice piacere. Ecco, questa è una definizione e ritroveremo adesso andando a toccare il tema della fotografia a breve. Cioè questo vedere più in alto rispetto al semplice piacere. E sono termini che abbiamo già scomodato prima quando abbiamo parlato di foto bella e foto buona, no? Ma anche in psicologia, no? Chi studia psicologia conosce bene il tema della simbiosi neonatale, cioè del fatto che il neonato quando nasce impiega sei mesi di tempo a capire di essere altro rispetto alla madre. e questa unità di nuovo vedete che viene lacerata nel momento in cui prendiamo consapevolezza che nostra madre è un essere e noi siamo altro, in qualche maniera diventa la nostalgia della vita, cioè ritrovare quell'unione perfetta e onnipotente che c'era nel momento in cui sei nato. E Freud in psicanalisi è arrivato poi a mettere il desiderio erotico come pulsione primaria, pulsione assolutamente al di sopra di tutte è quello che anima tutto l'agire umano, tutta la vita umana. Ecco, dopo che abbiamo fatto tutto questo escursus sulla parola erotismo, andiamo a trovare questa frase di Diane Arbus che sembra cadere a fagiolo. La fotografia è un segreto che parla di un segreto. Più essa svela e meno è possibile conoscere. E questa frase sembra già suggerirci che in realtà la buona fotografia è fatta di desiderio mai soddisfatto, è fatta di distanze, è fatta di nascondini, mettiamola così, no? La fotografia non è mai la buona fotografia esplicita, non è mai finita, non è mai spiegata, rimane sempre un mistero, rimane sempre un segreto, proprio come l'altro nel rapporto amoroso, nel sentimento erotico. E qui l'invito per chi non lo avesse mai visto è di andarsi a vedere questo film del 66 di Michelangelo Antonioni, è considerato forse il film più importante che parla della fotografia, si intitola Blow Up, questo è un fotogramma tratto dall'ultima parte del film, andatelo a vedere perché in realtà in questo film se ci fate caso, se siete attenti, troverete tutti questi aspetti che abbiamo trattato prima, il rischio dell'insuccesso, lo sguardo che indugia, il desiderio di conoscere, curiosità attesa, desiderio di avvicinarsi, sfuggevolezza e allusione. È un film imperniato su questi aspetti e quindi è un film proprio per questo assolutamente erotico. Andiamo avanti, tocchiamo alcune tappe della storia della fotografia, questa è una foto molto spesso utilizzata per raccontare quanto può essere erotico il non visto, il celato, vedete il segreto che parla del segreto, la modella che pure possiamo immaginare essere bellissima in realtà ci nasconde il suo sguardo, e quanto può essere potente questa immagine. E vedete quel drappo lì a sinistra, quel filo che cade legato al corsetto che in realtà non è allacciato. È un invito anche quello ad avvicinarsi se ci pensate, a scoprire di più, a toccare. È tutto perfetto in quest'immagine, ma sentite cosa dice Roland Barthes riguardo l'erotismo. Con Roland Barthes ci avviciniamo alla fotografia anche se lui non era un fotografo come ben sapete. Era tutto tranne che un fotografo. La parte più erotica di un corpo non è forse dove l'abito si dischiude? Nella perversione non ci sono zone erogene. No, scusate, nella perversione non ci sono zone erogene. È l'intermittenza, come ha ben detto la psicanalisi, che è erotica. Quella della pelle che luccica tra due capi, la maglia e i pantaloni, fra due bordi, la camicia semiaperta, il guanto e la manica, è proprio questo scintillio a sedurre, o anche la messa in scena di un'apparizione e sparizione. E torna di nuovo questo rincorrersi come in Plutone, scusate, come in Apollo e Daphne, questo celarsi, questo rimanere scoperto, ma non tutto, un tratto, qualcosa, e infilare lo sguardo in quel punto lì che resta scoperto. Questo fa la fotografia al suo più alto livello. Comincia a sbirciare dove tu puoi vedere e dove puoi scoprire qualcosa di ulteriore e di magico. Ed è quello che ha fatto nella sua vita questo fotografo americano che io adoro e si chiama Edward Weston. Quando ho scoperto la fotografia di Weston ho capito che poteva esistere il genio, no? E questo è un suo nudo piuttosto famoso. Ora incrociamo le dita. Allora, speriamo bene, se no vi do un terzo backup, che vi devo dire. Però, nudo, nel 1936 ed è per lui una sorta di traguardo perché ha passato la sua vita a lavorare sul nudo. Questo è uno dei suoi ultimi nudi e riesce a lui, diciamo, autore, uno degli autori principali della straight photography, della fotografia diretta, pura, che vuole astrarre tutto, per lui l'astrazione è astrarre il verbo più importante in fotografia e quindi per lui astrarre significa trasfigurare, elevare il corpo di una donna a quello di forma pura. E in questo caso lo fa richiamando forme geometriche ovali che possono essere quelle delle braccia attorno alle gambe oppure della testa appoggiata sul ginocchio, no? Però capite come qui il traguardo di Weston è quello di essere riuscito a cercare una fisicità che andasse oltre quella universalmente conosciuta. Per lui la fotografia aveva proprio questa caratteristica, questa capacità, questa sorta di magia di riuscire a trasfigurare le cose in maniera tale, come diceva lui, che un albero diventasse più di un semplice albero. e questo, vi dicevo, il traguardo ci arriva attraverso una serie di close-up, di foto in avvicinamento. Ecco, cerco di andare un po' più veloce perché non indugio troppo. Cioè, lui comincia a scomporre il corpo umano un po' come Picasso faceva con il cubismo e prova a indagare circa alcune parti che possono parlare per il tutto. La parte che parla per il tutto. E questa è la ricerca di astrazione. Per lui togliere vuol dire aggiungere in sostanza e suggerire. Vado veloce, mi perdonerete se vado così veloce, e speriamo bene, incrociamo le dita e arriviamo al problema del peperone, finalmente. Allora, qual è sto problema del peperone? Ho fatto una carrellata sui nudi di Weston che domani mattina mi devo andare a confessare, povero Weston, perché davvero è un sacrilegio. Però, che cosa volete? Purtroppo, ecco, io adesso ho l'incubo che cada di nuovo la diretta. Dicevo, arriviamo al problema del peperone. Ecco, se uno mi dicesse mi devi fare la foto di un peperone, se uno lo dicessi a un fotografo oggi, probabilmente il fotografo tirerebbe fuori una foto del genere, cioè un peperone perfettamente scontornato, su fondo bianco, perfettamente illuminato. Ed è forse la foto che meglio rappresenta il peperone secondo l'esperienza che noi facciamo di esso. che cos'è che cos'è il peperone in fondo? Il peperone non è nient'altro che un alimento. Punto. Finisce lì. In realtà la capacità dell'artista sta nel riuscire a immaginare questo peperone come qualcosa di altro, come la trasfigurazione del peperone. Come fa l'artista? Ragiona un po', diciamo, Weston, Cavalca, quello che qualche anno prima, nel 1917, un artista francese aveva usato come una provocazione. Marcel Duchamp nel 1917 espone Fontaine, quindi un urinatoio che diventa altro, non è più un semplice urinatoio. Questa capacità appunto di utilizzare l'objet trouvé o il ready-made, cioè quello che già esiste e lavorare come artista attorno a quello che già esiste è qualcosa che affascina terribilmente i fotografi di quegli anni, tra questi sicuramente Edward Weston. Edward Weston quindi comincia a capire che il peperone può essere più di un semplice peperone, esattamente come l'albero può essere più di un semplice albero, ma solo quando viene fotografato da un fotografo. Ed ecco che comincia a fare una serie di prove. Questa è la quattordicesima prova di peperone nel 1929 e sfido chiunque di voi a non riconoscere in questo peperone qualcos'altro. E capite che questa foto qua ha qualcosa di simile, ha qualcosa in comune al nudo di Man Ray che Google continua a censurarvi. C'è qualcosa di... Ci sono diversi punti di contatto, perché ancora qui possono tornare tutti quegli aspetti desiderio di avvicinarsi, di capire, curiosità, allo stesso tempo timore reverenziale verso l'opera. E questo è il peperone numero 30. Questo di prima era il 14, quindi capite che diventa un'ossessione per lui quella del peperone. Al tentativo numero 30 capisce di aver fatto qualcosa di grandioso. Perché questo non è più un peperone. Non è più un peperone, questo è il re dei peperoni. Questo se volete anzi è la quintessenza del peperone. Poi vedremo cos'è la quintessenza. Qui c'è dentro tutto, c'è lo sguardo che indugia la curiosità, l'attesa, il desiderio di avvicinarsi, la sfuggevolezza e l'allusione. Qualcuno ci ha visto un guantone da pugile, qualcuno ci ha visto un naso, qualcuno ci ha visto addirittura un presepe, la Madonna Giuseppe Gesù Bambino, quello che volete voi, ci potete vedere quello che volete e in realtà a Weston non interessava quello che noi vedevamo del suo peperone, interessava questo. Per lui era importante che questa foto avesse queste caratteristiche. Dice lui del suo peperone, è classica, pienamente soddisfacente, un peperone, più di un peperone, astratto in quanto del tutto fuori tema. E in questo, secondo Weston, risiede l'arte nella capacità di portare fuori tema quello che tu hai visto sempre in un altro contesto. Il peperone che chi cucina conosce sul piano della propria cucina sopra un tagliere accanto a un coltello diventa qualcosa di completamente altro grazie alla fotografia. Ed ecco che allora la fotografia ad autore riguarda non più il mondo del visibile ma quello dell'invisibile e mentre il mondo del visibile è la pornografia il mondo dell'invisibile è il mondo dell'erotismo. Possiamo rifiutare quindi la retorica delle cose belle per inseguire il sogno di rendere uniche le cose ordinarie. E prima ve l'avevo fatti vedere dei pezzi di peperone dei particolari di Weston capite che sono foto che dovreste vedere poi ovviamente dal vivo per comprenderne appieno l'assoluta straordinarietà e Weston si mette a fotografare queste cose qui tipo due conchiglie che però diventano più di due semplici conchiglie qui o una foglia di cavolo che diventa una sorta di abito o se volete di capigliatura ognuno ci vede quello che vuole però qui stiamo indagando sulla materia e la stiamo trasfigurando trasfigurando se vedete delle gambe è tutto normale e questa cosa qui non si fa solo col close up è una cosa che riguarda la fotografia tutta sentite cosa dice questo soggetto che si chiama Joel Myrovitz nell'introduzione di un film che parla di street photography si chiama everybody street dice questa cosa qui perché alcuni fotografi vanno per strada e altri fotografi preferiscono uno studio perché alcune persone pretendono che tutto sia un film e altri fotografi girano a piedi nel mondo e gli chiedono mostrati alcuni privilegiati sono disposti ad andare nel caos con alte aspettative di interagire con momenti in cui la vita verrà loro svelata possono accogliere l'ambiguità e gli aspetti surreali di questo tipo di caos e anche se è caos vivranno un momento di rivelazione ecco io da persona che ha praticato nella sua vita la street photography posso dire che questa cosa la capirà chi ci è passato quello che dice Mayrovitz è assolutamente vero quando tu sei in trans agonistica da street photography e stai cavalcando le strade di una città da ore e ore a un certo punto ti senti tutt'uno vedete l'unità tornare uno con il luogo in cui vivi ti senti di penetrare proprio fisicamente quella realtà è una sorta di quello che accade in Matrix quando viene vista la realtà sotto forma di bit non so se avete presente quella scena di Matrix che tutto diventa fosfori verdi ecco questa rivelazione è qualcosa che si può sperimentare nel momento in cui io la paragono tranquillamente all'orgasmo se volete all'estasi di Santa Teresa sono tutti tutti i lati tutti aspetti molto simili e qui per esempio vediamo Gary Winogrand che ha fatto un progetto Women are Beautiful sulle donne di cui erano la sua passione ogni fotografo ha la sua passione possiamo immaginare che qualcuno abbia avuto anche come passione l'altro sesso l'altra metà del cielo e quindi l'erotismo in sintesi diventa conoscenza ma non una conoscenza semplice una conoscenza profonda una conoscenza che significa arrivare alla quintessenza delle cose la quintessenza è intesa come caratteristica essenziale come natura intima e ultima delle cose quindi in questo senso la grande sfida della fotografia sta proprio nella banalità nel banale il peperone è banale cosa vuol dire quindi fotografare vuol dire provare a trasfigurare il mondo conosciuto per renderlo degno a me piace tantissimo questa frase di riconoscenza cioè in sostanza è come se una mattina ci svegliamo e il marito o la moglie che abbiamo sempre avuto al nostro fianco lo vediamo con occhi nuovi ecco questo è vedere le cose con occhi nuovi capaci di trasfigurare l'oggetto o il soggetto che abbiamo di fronte e di vederne aspetti che prima non vedevamo questa è una capacità che se ci pensate ha la fotografia più di ogni altra arte più di ogni altra disciplina umanista e ho usato questo paragone quello di mettere in lingerie il quotidiano cioè di renderlo assolutamente nuovo e da riscoprire no ecco oggi invece come stanno messe le cose proviamo a fare un piccolo ragionamento su questo e chiudiamo anche questo webinar ovviamente se avete domande fatele tranquillamente in chat e proverò a rispondere quali sono oggi le caratteristiche della nuova fotografia perché oggi viviamo in un'epoca assolutamente ricca di novità per quanto riguarda la fotografia siamo nell'era della post fotografia qualcuno la chiama meta fotografia ci stiamo talmente tanto dentro che non esiste neanche una voce wikipedia in grado di spiegare cosa sia questa benedetta post fotografia però quali sono le caratteristiche che tutti abbiamo sotto gli occhi allora la nuova fotografia innanzitutto è veloce non c'è ombra di dubbio la fotografia fatta di smartphone voi vedete il selfie qui di sfondo sapete che è l'immagine più twittata di sempre cioè l'immagine più condivisa al mondo sui social network è questa e vi ricorderete è stata scattata la notte degli oscar di qualche anno fa quindi tutte queste star che si fanno il selfie e via a parte questo questo viaggio virale di questi pixel perché sono pixel un'immagine che probabilmente non è mai stata stampata e diventano l'immagine più condivisa di sempre ora vi dicevo è velocissima perché un attimo dopo che questa foto è stata scattata era già sui profili twitter o instagram di questi attori e quindi non c'è più il tempo che richiedeva una volta la fotografia è orizzontale è una fotografia che ci unisce che serve a dire c'ero anch'io ero con te quindi manca completamente l'ascesi la verticalità il rapporto con qualcosa di più alto o al contrario di più basso è sempre disponibile perché il telefono ce l'abbiamo in tasca una volta per fotografare dovevi scegliere di portarti dietro la fotocamera oggi la scelta non c'è bisogno di farla perché ce l'hai già in tasca il telefono è illimitata la fotografia non ha più limiti perché può viaggiare in tempi rapidissimi è economica una volta dovevo comprare il lullino pagare lo sviluppo è immersiva immersiva oggi su facebook vedrete sempre più vedete sempre più spesso quelle immagini tridimensionali per cui voi scorrete e la foto si muove oppure ci sono le immagini VR dentro le quali voi siete in una bolla e vedete tutto quello che c'è attorno a voi e da questo punto di vista la fotografia nei prossimi anni diventerà sempre più immersiva e poi è consolatrice in qualche maniera è di intrattenimento ci aiuta a non pensare o addirittura a far passare il tempo ed è anche consentitemi questo aggettivo perfetta perché oggi davvero le fotocamere sono in grado di lavorare perfettamente sull'esposizione sul contrasto in poco tempo riusciamo a rendere una nostra fotografia probabilmente più bella di quella che tanti autori hanno prodotto nel novecento qua vi faccio vedere queste sono immagini di qualche anno fa del master di street photography eravamo a Milano a una mostra c'era Bruce Gilden di Magnum e gli abbiamo chiesto di fare una fotografia insieme ecco questa ha tutte le caratteristiche di quello che dicevo prima della nuova fotografia ecco vi invito a vedere l'espressione di Bruce Gilden a soffermarvi un attimo sul suo sguardo e sulle sue mani tipo qualcuno sta per battere una punizione e sto lì a coprirmi assolutamente non voglio abbracciare nessuno voglio soltanto che questo momento passi il più rapidamente possibile lo dice con ogni con ogni atomo del suo corpo Bruce Gilden e capite che per qualcuno può essere assolutamente divertente per lui che è un soggetto legato a una certa forma di fotografia d'autore è stato sicuramente un momento di disagio che in qualche modo ci ha concesso e per il quale tutto sommato gli siamo grati però ecco per noi questa fotografia è stata una sorta di trofeo cioè fotografarci insieme a lui è stata è stata una volta davvero una una specie di trofeo e consentitemi io non sono non sono tra quei fotografi che fanno le crociate anti selfie anzi qui faccio outing questo è uno dei selfie che ho fatto in questi anni insieme a mia moglie e succede capita è quel tipo di fotografia orizzontale quella forma di ricordo se volete di fotografia che viene che servirebbe a ricordare ma in realtà se non la tiriamo fuori dai nostri hard disk rimarrà seppellita sotto milioni di bit però c'è esiste la faccio come la fanno tanti fotografi autori e non ce ne vergogniamo però ecco il selfie ci riporta a qualcosa di molto importante che abbiamo detto prima cioè l'unità l'essere con il selfie è quasi sempre un selfie con è raro che qualcuno si fotografi da solo è sempre un fotografarsi con qualcuno o con qualcosa è sempre un voler comunicare io sono con che può essere anche con una ragazza o con un ragazzo o con un gelato il problema qual è in tutti questi casi che in queste due foto ciao Tito c'era Tito sì allora in queste due foto del gelato e della ragazza di spalle il soggetto della fotografia è perfettamente sostituibile cioè se al posto del gelato ci fosse stato un pupazzetto se al posto del ragazzo dietro ci fosse stato perché questo il soggetto del selfie in realtà è la ragazza di spalle non tanto il ragazzo che segue però se al posto di quel paesaggio ce ne fosse stato un altro capite che non sarebbe cambiato molto mentre in questa fotografia qui che apparentemente è simile alle altre come segni abbiamo una mano inclusa all'interno dell'inquadratura in questa fotografia qui che probabilmente qualcuno di voi conosce i segni parlano invece o meglio la storia la vicenda ci parla di una insostituibilità del momento perché siamo nel 68 a Praga nel momento in cui i carri armati russi entrano in città perché Praga sta andando diciamo verso un un abbandono della linea comunista integralista e i russi decidono di invadere la città è prevista una manifestazione di protesta contro i russi ma rapidamente i giovani di Praga si spargono voce di non partecipare a questa protesta perché sarebbe per i russi l'occasione d'oro per averli tutti insieme e arrestarli o peggio ancora aprire il fuoco di conseguenza Kudelka che fa sale sopra un balcone e fotografa questo polso con l'orologio all'ora esatta in cui la manifestazione doveva cominciare per dimostrare che non c'è nessuno ecco qui si sta compiendo la storia capite questa è una fotografia che ha tutt'altra caratteristica rispetto alle due che abbiamo prima abbiamo visto prima allora qual è il problema la nuova fotografia è veloce la vecchia è lenta la nuova è orizzontale la vecchia era verticale la vecchia fotografia ha tutte le caratteristiche che sono il contrario della nuova era ingombrante era limitata era costosa era piana e sottrattiva era disturbante altro che consolatrice e perfettibile altro che perfetta ma non sono qui a dirvi è meglio l'una o è meglio l'altra perché in realtà se è vero che l'arte è solo nella contemporaneità l'artista contemporaneo non lavorerà con la fotografia vecchia d'autore lavorerà con la nuova fotografia e renderà quella fotografia d'autore quindi si può fare tanto sul terreno dei selfie e tanto è stato già fatto in realtà perché non si parla di selfie da poco e quindi questi autori che sono poi gli autori di Magnum questa è una delle prime riunioni di Magnum in cui erano tutti giovani tutti vivi cosa sta succedendo cosa sta accadendo qual è il fenomeno importante da comprendere che mentre la fotografia tradizionale era nata con l'ambizione di fermare per sempre il tempo la nuova fotografia molto spesso serve a far passare il tempo più velocemente cioè questo è il paradosso e perché da quando si è capito questo paradosso? si è capito da quando sono state scattate queste foto qui o meglio da quando ci sono state le deposizioni dei ragazzi che gestivano questo carcere di Abu Ghraib qualcuno lo ricorderà era se non sbaglio il 2003 esce fuori questo scandalo e si capisce si comprende che dei ragazzi dei giovani militari americani uomini e donne avevano diciamo si erano resi rei di vilipendio di cadavere piuttosto che torture nei confronti dei prigionieri di quel carcere questi ragazzi per giustificarsi dicono delle frasi che lasciano abbastanza scioccata l'opinione pubblica perché si difendono così dicendo mi viene automatico di fronte a una fotocamera tirare fuori il pollice e sorridere e altri dicono eravamo lì e l'unico modo per passare il tempo era quello di usare le fotocamere digitali che nel 2003 cominciavano a diffondersi tutti avevano una digitale in tasca non c'era ancora lo smartphone non c'era ancora Facebook però già c'era la possibilità la nuova fotografia come l'abbiamo definita prima e quindi il paradosso è questo che noi oggi scattiamo molto spesso tiriamo fuori il telefono dalla tasca non tanto per sottolineare un evento importante quanto per passare il tempo e questa è una cosa che in sé non avrebbe nulla di male se non questo aspetto qui il fatto di fotografare sempre stesse cose e di non ragionare più attorno a quello che facciamo sta determinando un impoverimento del linguaggio fotografico e se è vero che il linguaggio è veicolo del pensiero e se è vero che un vocabolario povero produce pensieri poveri è altrettanto vero che un vocabolario visivo fatto di segni poveri produce pensieri visivi poveri cioè vi sto dicendo che a forza di guardare foto su Instagram stiamo riducendo le possibilità della fotografia che Weston aveva portato su territori inesplorati a quelle 4-5 cose che si ripetono ad libitum su Instagram o su Facebook questo è il problema probabilmente questo è l'invito che se volete voglio farvi oggi quello di provare a cercare un nostro linguaggio con il rischio insito nell'erotismo ne abbiamo parlato di sbagliare con il rischio di essere incompresi con il rischio di non arrivare a nulla di non colmare mai quella distanza in greco eros erotismo non è che uno dei quattro aspetti della parola amore amore si traduce in quattro modi storie cioè amore parentale familiare filia che è l'amore di amicizia da cui derivano anche tante parole italiane desiderio che invece è l'eros eros scusate che diventa desiderio e agape che invece è l'amore spirituale ecco in italiano che è un linguaggio più povero rispetto al greco tutti questi quattro termini qui li traduciamo semplicemente con amore e poi dobbiamo andare a spiegare eventualmente che differenza c'è ma come vi dicevo il vocabolario povero produce pensieri poveri perché la Grecia è stato il territorio dove è nata la filosofia perché il loro linguaggio era talmente ricco da consentire un'articolazione del pensiero assolutamente raffinata e quindi Nadar non esiste la fotografia artistica la fotografia esiste come in tutte le cose chi sa vedere chi non sa nemmeno guardare quello che siamo chiamati a fare come fotografi è usare la visione non solo lo sguardo chi fotografa il fiorellino chi fotografa il tramonto chi fotografa il gattino per citare i tre soggetti più diciamo denigrati da una certa categoria di fotografi non fa nient'altro che poggiare lo sguardo e fa un'operazione che se volete passatemi il termine penso sono sicuro che capirete cosa intendo dire è pornografica nel senso che è consolatoria è una soddisfazione immediata non c'è nessuno sforzo nessun pensiero nessuna distanza come avviene invece nell'erotismo ecco invece il fotografo è chiamato a vedere che cosa vuol dire vedere vedere è un atto più alto del semplice guardare del semplice poggiare lo sguardo è come quando diciamo a qualcuno ora guardalo cioè poggia lo sguardo su questa cosa e dimmi cosa vedi il vedere è qualcosa che riguarda il nostro mondo interiore che ci penetra dentro no e concludo con una condivisione con la condivisione di un pensiero che è di Ferdinando Scianna e che mi ha sempre affascinato ecco questa fa parte delle categorie delle foto ricordo e mio figlio qualche anno fa quando dormiva quando dormiva nel suo lettino io avevo scattato questa foto prima ancora di conoscere la frase di Scianna è una foto che se vedete è tutta sbagliata scattata con un telefonino piena di grana però fa parte di quella categoria di foto ricordo che abbiamo già affrontato prima e cosa dice Scianna dice una mamma guarda suo figlio centinaia di volte al giorno e poi una sera lo mette a letto si alza dopo averlo fatto addormentare e lo vede lì con quella luce delicata quel visetto sereno lo vede non lo guarda lo vede e chiama il papà e gli dice vieni a vedere ecco la fotografia è la condivisione di una visione e qui c'è uno step successivo se volete rispetto a Weston cioè il fatto che quello che io vedo quella trasfigurazione che avviene davanti ai miei occhi diventa qualcosa di fronte alla quale io non posso far altro che chiamare gli altri alla visione chiamarli perché le cose belle si condividono grazie a tutti è stata lunga stasera se avete domande sono qui abbiamo ancora due minuti o cinque per le domande quindi fatevi sotto se ne avete altrimenti vado a concludere mentre respiro un attimo prendo fiato va bene nel frattempo se arrivano domande è bene ma io perdo l'ultimo minuto per ridirvi quello che vi ho detto all'inizio di questo di questo webinar allora innanzitutto se vi è piaciuto mettete un bel like ho imparato che si dice così al termine di ogni diretta se vi è piaciuta questa diretta mettete un bel like al video qui e soprattutto cliccate su come funziona su facebook iscriviti si iscrivetevi insomma al canale allora nel frattempo forse sta arrivando qualche domanda ok Bruce Gilden piace stare sì lui diciamo che non ha molti problemi di etica Bruce Gilden sicuramente va bene e niente quindi ripeto le due cose dette all'inizio per chi magari si è messo in contatto soltanto da poco allora grazie innanzitutto per i like al video e se volete il 15 di maggio partiamo con il corso di postproduzione digitale anche qui consentitemi di dire che sarà un corso diverso da quelli che in genere si trovano in giro perché non ci concentreremo solo sulla parte tecnica ci interesserà domandarci il perché una postproduzione piuttosto che un'altra questo è un po' l'aspetto cruciale forse una postproduzione fatta cum ratio cum grano salis cioè mettendoci dentro un po' di idee e non soltanto il gusto per un colore piuttosto che un altro e l'altra cosa vi do appuntamento come vi dicevo a giovedì prossimo ore 18 e 30 per questo bellissimo webinar sono sicuro che sarà così con Stefano De Luigi che è una persona di uno spessore incredibile quindi vi raccomando di esserci tutti e puntuali nel frattempo leggo una domanda di Federico quale pensi che sia il rapporto tra post fotografia e post digitale oh mi prendi un po' impreparato perché non so cosa intendi per post digitale non lo so va bene Federico magari ti rispondo se me lo scrivi nel gruppo facebook ti rispondo lì così adesso liberiamo tutti che si è fatto anche anche tardi grazie ancora ragazzi è stato come al solito un piacere e un onore passare quest'oretta e mezzo con voi ci vediamo giovedì prossimo non mancate e vi mando un calorosissimo saluto e fate i bravi e ciao a tutti a tutti